Dei Sauri dove va di scena la sesta corsa che è una condizionata per cavalli di tre anni che sono, non è una condizionata perdonatemi, ma è una Maiden per cavalli di tre anni quindi che non abbiano vinto un primo premio in carriera. Sono in 10 al via, c'è il ritiro di Derby Sun che si sarebbe dovuto avviare con il numero 6 quindi ne restano in sette in prima e tre in seconda fila. Luce accese, macchina in movimento dallo steccato Diana Del Runco, Diabolic Jet, Django Cup, Desideri, Don't Give Up, LJ, Dotta Petral e Dark Shadow. In seconda fila Dakota Grimm, Degas Del Runco e Doyle Waisel. La prende con la rincorsa Desideri che è anche il cavallo più appoggiato dagli scommettitori, galoppa Dark Shadow dall'esterno dello schieramento. La macchina li lascia, stacca ora. Lotta per il comando tra Django Cup e Don't Give Up nei confronti di Diabolic Jet, poi lungo lo steccato Diana Del Runco. Scivola al comando Don't Give Up sulla condiscendente Django Cup e se ne vanno i 200 di gara in 16 spaccati. Don't Give Up, così in vantaggio nei confronti di Django Cup, Diabolic Jet, Diana Del Runco, prova a migliorarsi all'esterno Desideri. Si migliora Desideri all'esterno, ora è al salchi di Django Cup e tenta l'aggancio con il leader. Don't Give Up, galoppa Desideri all'esterno, e così Don't Give Up in vantaggio, approda i 600 di gara in 48. E così all'esterno è la volta di Doyle Waisel. Don't Give Up, suo malgrado, se la fa davanti nei confronti della pariglia composta da Django Cup con all'esterno Doyle Waisel. Poi, lungo lo steccato Diabolic Jet e Diana Del Runco, all'esterno troviamo il 9 di Dakota Grimm e il 10 di Degas Del Runco. Cavalli che vengono al completamento del primo giro, che Don't Give Up passa in 1.19.6, un soporifero primo giro. Don't Give Up, Doyle Waisel, Django Cup, Dakota Grimm, Diana Del Runco, Degas Del Runco, in un ordine che non muta al completamento degli 800 finali. 1.35.7 i tre quarti di miglio, c'è una frazione in 16.1 impiegata. Don't Give Up all'esterno Doyle Waisel, in tasca Django Cup, poi Dakota Grimm. La frazione di line 15.2, con la quale Don't Give Up si mantiene ancora al comando, si muove Dakota Grimm dalla seconda pariglia, cerca di aggirare Doyle Waisel. Poi Degas Del Runco, il miglio in 2.6 scarso e Don't Give Up è sempre in vantaggio nei confronti di Django Cup, che rientra Doyle Waisel e all'esterno Dakota Grimm. E della partita anche Degas Del Runco, che prova a venire a fare l'arrivo in mezzo alla pista. Retta d'arrivo con Don't Give Up in vantaggio, all'interno ci prova Django Cup, all'esterno Degas Del Runco che si ingamba tardi. Django Cup all'interno buca Don't Give Up e vince nei confronti dello stesso, mentre per il terzo all'interno c'è Diabolic Jet. La rivediamo, Django Cup si afferma numero 3 sul tabellone al primo posto, al secondo il 5 di Don't Give Up e per il terzo c'è foto fra Dakota Grimm all'esterno che copre interamente all'interno di Abolic Jet. Probabilmente forse lo pizzica, ma è un arrivo comunque difficile da decifrare per il terzo posto. ha vinto in 2.35 e mezzo Django Cup con Luigi Cuozzo nella versione di training e guidatore per i colori di Pasquale Di Bernardo. 3-5, poi c'è foto tra il 2 e il 9 per il terzo posto. Al quinto completa il quintetto dei premiati, Degas Del Runco.